Seconda parte di Focus con i Veneti schiacciati dalla crisi e dalla casta, ogni tanto titoliamo perché le decisioni che prendono i parlamentari, i ministri, i governi, il più delle volte non servono ad aiutare chi soffre, chi sta molto male. Riprendiamo la storia di Mario e di Miriam in questo servizio della nostra redazione di Treviso. Due mesi di proroga, nel frattempo alla proprietaria dell'appartamento sono stati versati 2000 euro frutto delle donazioni al Fondo per i Veneti schiacciati dalla crisi che vanno in parte a sanare gli affitti arretrati. Il difficile caso dello sfratto esecutivo imposto a Miriam e Mario è arrivato in aula, al loro fianco l'avvocato Antonella Tocchetto e Mirella Tuzzato. L'udienza è stata rinviata a novembre, nel frattempo speriamo anche che il comune di Cassafranco che peraltro è pure garante delle obbligazioni assunte nel contratto di locazione, si faccia avanti dando una casa e pagando e aiutando anche questi ragazzi. Anche il giudice rispetto alla loro situazione si è veramente commosso, ha potuto solo applicare la legge perché non può fare oltre, ma il rinvio a novembre già ci dà un lasso di tempo per consentire a loro di trovare una soluzione a più presto. È andata bene, nel senso abbiamo ancora, come ha detto il giudice, abbiamo fino a novembre per poter trovare un'alternativa. Speriamo che il fatto che ci sia una data certa di a chi di dovere il tempo e il modo per fare ciò che non è stato fatto fino ad ora. Senza fare polemiche o che altro, chi di dovere appunto, ripeto, faccia quello che non ha fatto finora anche con una certa celerità. Il riferimento è al comune di Castelfranco, garante della coppia. Noi puntiamo una casa del comune ma entro l'anno perché il comune di Castelfranco, ricordo, è garante nel contratto d'affitto e quindi deve assumersi le proprie obbligazioni. Allora per chi si fosse perso la prima parte di Focus abbiamo dato servizio, così avete capito molto chiaramente che cosa è successo a questa coppia di sposi. Miriam, a lei risulta, cioè dalle amicizie che avete, insomma dal mondo, che conoscete, che altre persone nelle vostre condizioni stiano vivendo la stessa situazione? No, io tra le amicizie che abbiamo non conosco persone che vivano la nostra stessa condizione. Per come ho vissuto la situazione adesso, se qualche anno fa avrei detto a ragazzi e ragazze disabili come me o anche un po' meno di me, provate a essere parte della società senza tutele esagerate e senza assistenzialismo, adesso non sono più così convinta che questa cosa si possa fare. E la cosa mi dispiace sinceramente perché in un paese che si ritiene civile non può essere che la disabilità sia una condanna a essere per forza diversi dagli altri. Certamente, insomma poi c'è una maggiore sensibilità, si parla di barriere architettoniche, si interviene quando i giornali denunciano il disabile che non è stato accettato in un albergo o fatto salire su un treno, però poi la vita di persone come voi, poi si vive tutti i giorni, dalla mattina alla sera, alla notte a volte soli, ci sono persone non autosufficienti. Voi come fate a vivere in una casa da cui vi vogliono sfrattare? Come fate, avete assistenza, avete qualcuno che vi aiuta? Noi siamo, se posso dire, uno la forza dell'altro e questo è il nostro più grande orgoglio, cioè nel senso che questa è forse la nostra forza, nel senso che noi con un lavoro ce la caviamo. Sì, come se posso intervenire, come quando prima dicevo, è stato forse nel 2000, agli occhi di molti, può essere stato un azzardo quello di uscire da delle realtà protette, che bene o male dalla mattina alla sera sei assistito, è una realtà dove ti devi confrontare con situazioni ben diverse, non protette, ma noi l'abbiamo fatto perché appunto volevamo dimostrare che con l'amore, ma non solo, perché non basta l'amore, ma con una serie di cose che in Italia potrebbero andare meglio, anche delle persone con disabilità potrebbero avere una vita di coppia, in Italia è una vita, non dico normale, totalmente normale, ma quantomeno una realtà che si avvicini il più possibile a una normalità. Certo, è stato chiarissimo, allora ricordiamo che proprio Mirella aveva portato l'aiuto dei nostri telespettatori con un assegno a Miriam e Mario, vediamo ovviamente un aiuto piccolo, insomma nei limiti delle vostre, delle nostre possibilità, ma davvero per tante persone è un aiuto importante. Vediamo a chi è andato l'assegno questa settimana. Ciao amici, oggi siamo a Boniziolo e stiamo incontrando Riccardo. Quanti bambini hai? Due, sono due bambini, uno ha un maschietto da 10 anni, una femminuccia da 4 anni e mezzo. Tu mi dicevi Riccardo che stavi bene, che non avevi problemi finché c'era il lavoro e poi all'improvviso? Quattro anni fa, lavoravo alla Fingandieri e la Fingandieri poi sono i testenni che hanno chiuso, perché fanno contratto a sei mesi e poi mi sono trovato così, disperato a cercare lavoro, lasciando un tuo curriculum di qua e di là, alla fin fine... Vi dicevi che non hai neanche gli allacciamenti? No, non c'ho niente, mi hanno staccato l'ucio, c'ho pure lo strato perché la casa è messa all'asta e il giudice ci vuole cacciare fuori. Permesso, stiamo entrando in casa di Riccardo ed ecco qua Anna, ciao Anna, ciao, come va? Bisogna, bisogna, è un casino qua eh? Non piangere perché sai che, lo so che è dura Anna, ma è così, è così, non c'è niente da fare, però hai visto che siamo arrivati, siamo arrivati perché quando ci sono minori tu sai che Rente Veneta è presente. E cosa vorresti che io ti regalassi? Un pupazzo, un pupazzo vuoi? Allora ti prometto che il papà la prossima volta che viene a prendere la borsa al banco alimentare ti porta un bel pupazzo, va bene? Un giocattolo che vorresti avere, dai dimmi, dai che ne ho tanti, dai, dimmi una cosa che vorresti avere. Niente. Perché amore? Eh, va bene. Io vorrei che ci fosse un politico che prendi tanti soldi a provare questi drammi familiari, con questi bambini che rimarranno segnati, ripeto, per sempre. Sono le vostre mani che in questo momento stanno aiutando questa famiglia tanto provata, avete visto i bambini, sono tantissimo provati, non è possibile. Allora, tantissimi sms anche stasera, tra l'altro avvocato, c'era un ministero per la famiglia, le politiche sociali, adesso lei è esponente del PD, noi diciamo sempre che le colpe vanno spartite, diciamo tra tutti gli italiani, ma in particolare tra chi ha amministrato questo paese, Berlusconi, Monti, Letta, potremmo citare gli ultimi 7-8 governi, no? Per inconcludenza, per incapacità di risolvere i problemi. Però perché non si, secondo lei, non c'è un'attenzione anche in questo governo alle fasce più deboli? Perché in fondo è un governo di centro-sinistra, seppure con la stampella, con l'appoggio di Berlusconi, no? Ma effettivamente questo è un po' il dato negativo che manca. Io capisco che però il ciclone, diciamo così, Renzi, nasce anche dal fatto che c'è una profonda crisi economica e la necessità che un paese riparta. Però io, gliel'ho detto già altre volte, io sono spesso, insomma, grazie anche a lei ospite di questa trasmissione, magari sono anche un po' alzo la voce, perché quelli che ci sono a volte sono quei politici che litigano a Roma per avere più soldi, magari in busta paga, oltre ai 12-13 mila euro al mese che si prendono, ed è giusto litigare con loro per fargli vedere che cos'è anche l'attività del territorio. Ma il giovedì per me, quelle volte che sono stata ospita, come oggi, sono sempre dei giovedì molto difficili. Io sto sempre zitta perché se c'è una cosa che oggi penso i telespettatori rivedranno al di là dei casi umani di tutti, ma è anche il grande amore che lega loro due, che proprio viene fuori, credo si percepisca, non siamo in 3D, ma si possa percepire. E allora, invece di litigare per eliminare il Senato sulle norme, diciamo così, che dovrebbero garantire più democrazia, quei soldi che si risparmiano potessero andare a un sistema di welfare, che significa, anzi, diciamola tutta, il nostro Paese è da sempre stato la guida delle leggi, proprio a tutela della disabilità e del rispetto del lavoro. Questo è stato proprio il nostro codice civile, il codice del lavoro ha articoli importantissimi, la nostra Costituzione ha articoli importantissimi a tutela del lavoro e della disabilità, salvo che però i mille soggetti che sono a Roma se ne dimenticano, così come se ne dimenticano quelli che sono in regione. Allora sarà forse anche il caso di dire smettete di litigare a Roma, fate presto queste riforme e tutti i soldi che possono essere risparmiati vengono effettivamente canalizzati all'applicazione reale delle leggi, perché ripeto, le leggi ci sono, ma poi bisogna finanziarle, perché se gli imprenditori avessero dal punto di vista economico ancora più sgravi di quelli che sono peraltro previsti dalla legge per l'assunzione di soggetti disabili, perché, diciamocela tutta, la difficoltà di Miriam e anche di Mario è sicuramente la deambulazione, ma penso che Miriam e Mario abbiano dimostrato una lucidità di ragionamento che è veramente incredibile, incredibile positivamente rispetto a tanti personaggi che stanno a Roma super pagati, che si lavano la bocca e non sanno nemmeno di che cosa parlano. Allora, se dobbiamo scegliere direttamente, senza le preferenze, le persone che devono andare a governare, ma io vorrei mille Miriam e mille Mario piuttosto che avere i soggetti che sono lì a fare le virgole, le pulci sul diritto, anch'io lo faccio per mestiere, ma un conto è farlo per un lavoro privato, un conto è farlo per mandare avanti una società. E allora io mi auguro che, insomma, dopo, diciamo così, le situazioni anche drammatiche che abbiamo visto oggi, ma anche drammatiche dal punto di vista sociale e anche economico, perché oggi, diciamo così, Renzi ha detto che magari i problemi che dice Cottarelli sono problemi che sicuramente lui risolverà, che gli 80 euro in busta paga ci saranno, ma che l'economia debba ripartire. Io personalmente sono anche preoccupata un po' per la situazione internazionale, perché quello che sta succedendo in Libia è un focolaio molto, molto pesante, così come, insomma... Non parlare di Gaza e... Gaza e, ovviamente, Israele è un altro focolaio, però io sono anche stata basita che i mass media nazionali abbiano dimenticato con grande facilità i 200 morti a Kiev. Guardate che anche quello, insomma, non è certo una bella situazione. Allora, la situazione internazionale è pesante, ci sono dei focolai gravi e soprattutto io, insomma, spero invece che ci sia più pace, ma che soprattutto, insomma, si intervenga dal punto di vista economico. I focolai della Libia, poi, ricordiamoci anche, che aumenteranno le navi e i profughi che arriveranno qua e sulle quali anche l'Italia sarà chiamata ad intervenire. Insomma, abbiamo un'estate caldissima, pur meteorologicamente freddissima, ma io mi auguro invece che qualcosa si riparta, ma riparta anche dal punto di vista economico, per poter aiutare tutti loro e anche dare, proprio perché le leggi lo consentono, a persone come Miran Mario un lavoro, come ovviamente anche il signore che è qui a fianco. Però, ripeto, oggi veramente l'emozione mi prende anche a me e quando si esce da queste trasmissioni del giovedì è veramente difficile continuare poi, sapendo anche che le situazioni di difficoltà sono talmente tante ed è difficile a volte veramente farne fronte. Ieri vi abbiamo parlato di un imprenditore che ci ha scritto dicendo io ho dei terreni della terra nel Vicentino sotto i colli iberici e vorrei metterla a disposizione di ragazzi che vogliano, senza che lui abbia alcun tornaconto, la metto a disposizione perché questi ragazzi possano far partire un'azienda agricola, possano ritrovare l'entusiasmo che si perde quando non ci sono prospettive, non ci sono sbocchi professionali. Proprio ieri, tra l'altro, in Regione è passata una legge proposta da Nicola Finco che prevede che la Regione, cioè che gli enti pubblici, diano a queste persone dei terreni su cui lavorare. Vediamo questo servizio. Il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge relativo alla banca della terra. In che cosa consiste? Consiste in un censimento di tutte le aree incolte di proprietà pubblica che attualmente sono di proprietà dei comuni, delle province e della Regione. Da una prima stima fatta assieme all'associazione di categoria contiamo circa 15 mila ettari di terreno che, se scrutati, potranno generare quasi 3 mila posti di lavoro. Ecco, come si svilupperà adesso questo progetto? Praticamente adesso, nel giro massimo di un anno, i comuni dovranno fare un censimento che poi questo censimento verrà registrato all'interno di una banca dati del Consiglio regionale e a breve verrà fatto anche un regolamento che servirà poi per dare questi terreni in particolar modo ai giovani imprenditori agricoli che hanno intenzione di bonificarli, di piantumarli, di renderli fruibili in modo da tutelare quell'ambiente, quella parte di terreni che attualmente sono incolti. Chi fosse interessato al progetto della Banca della Terra Veneta come può fare per aderire? Verrà realizzato un portale regionale dove qualunque cittadino potrà trovare tutti i dati catastali dei terreni disponibili, dovrà compilare un più semplice modulo, fare richiesta. Allora, l'intervista di Filippo Fois, ecco, ha fatto bene Fois a dire cosa bisogna fare, Finco ha risposto, però ci facciamo un no al fazzoletto e vediamo tra un anno o due anni se qualcosa è stato fatto, perché non sia la solita proposta interessante, anche toccante, che però poi non ha seguito. Quindi speriamo che questa cosa poi si faccia veramente. Setta Pirolo, lei diceva che voleva aggiungere qualcosa? Sì, io volevo aggiungere che nel 2009 ho perso il lavoro, nel senso che la dita assumeva gente con la patente C, però io non l'avevo e ho provato a farla, non sono riuscito, ci voleva troppi soldi e niente. Su questa casa qua sono andato, sono d'accordo con i titolari, visto e piaciuta, però io vorrei, se è la possibilità, se posso permettervelo di dirlo, che venite a intervistare e vedere come vivo. Perché, insomma, c'è muffa dappertutto i muri, mi piove dentro e devo mettere i secchi, i topi che mi corrono nel letto, scarafagi, c'ho una caldaia che mi hanno messo di gasolio, che ho provato perché mio fratello lavorava su un'azienda, mi ha dato un po' di gasolio, però non mi sono scaldato, è in cucina dove si mangia, una puzza enorme, il gasolio costa anche, è così, è sui via così, e vivo in questa maniera qua. Io non è che voglio navigare sull'oro, cioè vorrei un po' fare una vita un po' decente, non voglio mica negliarmi. Cioè una casa come vivevo prima, che prima avevo una paga, pagavo, poi quando ho perso il lavoro, grazie, ho fatto la domanda all'Inps, la disoccupazione, mi davano 800 euro, e 500 pagavo l'affitto, perché dicevo, se non li pago mi buttano fuori, e con gli altri pagavo il bolete quando arrivavano basse. Invece dopo, cioè ci guardavamo noi a famiglia e ci chiediamo cosa facciamo, paghiamo il bolete o mangiamo? Quanti anni ha lei? Io ho 53 anni, li faccio qua in agosto. 53, mi aveva detto prima che ha cercato altri lavori, sì, 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 ma ho fatto tante domande, però niente di... Senta, lo chiedo sempre a tutti, anche all'ultima volta c'era un elettricista, poi c'era un cameriere, un artigiano, cioè lei, se la sentirebbe, riesce a immaginare di mettersi in proprio, cioè di fare... Ho già provato, sì, ecco, allora lo spiego. Ma perché non si riesce a sbarcare il lunario facendo restauri, murature? Ma io ho già provato a farlo, mi sono iscritto anche a artigiani, questo e quello, però tasse... Cioè, poi da solo, se trovi un lavoro che serve in tre, non puoi farlo perché lo devi ingaggiare e se ti beccano, sono... E così, non sono riuscito né pagare uno e neanche l'altro, o mangio sempre o vado avanti con la mia famiglia oppure pago l'operaio, il materiale, tutto, non sono riuscito, e poi con questi anni qua non... Con la crisi, l'edilizia, ferma... Non mi fido neanche anche perché c'è lavoro, non c'è lavoro e dove abito io adesso ho delle famiglie che abitano vicino a me che c'è il mio figlio più piccolo che ha 16 anni che ogni tanto viene a casa con zucchine, fagioli che gli danno perché sanno come siamo, ci danno anche una mano, c'è niente da dire, però non posso mica mangiare sempre fagioli e le zucchine. Allora, è assolutamente vergognoso non aiutare due disabili nostrani per aiutare invece stranieri mantenendoli con 35 euro al giorno, vergognatevi politici. Poi prima, Mirella, hai visto un altro sms e l'avrà letto anche anche Pirolo che diceva ma insomma poi ci sono questi tutti questi che vivono di sussidi che vanno alla Caritas che prendono che sono finti poveri che si inventano delle scuse. Non sono mai nata la Caritas, sì. Allora, ci saranno anche, ci sono sempre i furbetti, ma voglio dire in percentuale, Mirella, tu che conosci il mondo degli indigenti, dei poveri, dei bisognosi, quanti sono in percentuale? Ma io faccio fatica a capire questi messaggi perché forse queste persone non fanno parte di questo mondo di volontariato che aiuta le famiglie indigenti. Cioè io sfido chiunque a star benino e di mettersi in coda a prendere la borsa della spesa, della Caritas o della San Vincenzo o della Mirelucia. Cioè ma cosa state dicendo? Ma cosa state dicendo? Cioè non sanno neanche cosa dicono. Perché, ripeto, chi va a prendere la borsa della spesa deve portare l'ISE. È inutile che andiamo a discutere su l'ISE perché è quello che certifica lo stato di salute della famiglia, del nucleo familiare. Allora, se vogliamo andare a mettere le pulci su l'ISE andatevi a prendere col governo, con i CAF, con le associazioni di categoria, con i sindacati, ma non venite a prendere con le persone che fanno volontariato e che danno la borsa della spesa dicendo che non va bene. Perché non sanno neanche cosa dicono. Vi posso assicurare che quando uno viene a prendere la borsa della spesa è un indigente. E quello che ha il coraggio di scrivere questo messaggio venga a trovarmi per cortesia così vediamo e gli faccio vedere le persone indigenti e poi lui mi segnalerà le persone che secondo lui non vanno bene. Perché è assurdo, è assurdo di parlare ancora di cose non vere perché oltretutto nessuno fa chiarezza in questo. Perché io vado alla Caritas, io vado a San Vincenzo, io vado al Banco Alimentare di Rete Veneta, vado là e mi prendo la borsa. Ma non gira mica così, ragazzi. Ma non gira mica così. ma informatevi prima di scrivere. Venite a vedere. Fate volontariato così vi rendete conto le persone che avete di fronte e con chi parlate e chi date la borsa della spesa. Non scrivete messaggi assurdi perché noi che veramente ci facciamo il mazzo così con tutti i volontari siamo stanchi di sentire queste cose e di leggere certi messaggi perché solo per il rispetto dei volontari pensate che la lì di Castagnoli qua lo devo dire siamo stati tre giorni arrivavamo alle 8 e mezza del mattino e siamo andati a casa alle 10 abbiamo scaricato abbiamo lavorato per dare la dignità alle persone di avere una borsa decorosa e questo con l'aiuto dei cittadini che voglio ringraziare perché do alcuni numeri direttore mi lascia 1086 litri di latte 695 kg di pasta 125 kg di riso 798 scatole di scatolami in generale 244 kg di zucchero senza contare il caffè e l'olio non faccio l'elenco se no ci vuole una trasmissione ma vi rendete conto i cittadini cosa ci danno per poi vedere qualche stupido perché la mamma degli ignoranti è sempre incinta che scrive ma c'è il furbetto che va ma cosa dite ma oppure che mi dicono aspetta questa è bella eh ho visto l'extracomunitario oppure l'italiano che ha le scarpe firmate ma vi rendete conto che noi abbiamo persone che ci portano roba nuova Nike nuove nuove roba nuova pellicce montoni giacconi borse firmate delle borse bellissime e poi hai visto Mirella quella là alla borsa è firmata dico ma vai a lavorare vai a lavorare che quella gliel'ho data io che me l'ha regalata una persona perché veramente è così non sanno neanche cosa dicono essere indigenti essere poveri non è una vergogna è anche un diritto quando si perde lavoro e si è diritto di essere aiutati e io ho la fortuna e qua dico veramente grazie a Muraro a tutta la giunta a tutti i consiglieri che mi danno la possibilità di aiutare queste persone con dignità su un ambiente veramente particolare dove nessuno può essere messo in evidenza come magari su una strada o su marciapiede come capita di vedere con la propria privacy con la propria dignità se ne vanno tranquilli i beati con l'autobus che arriva fuori della provincia queste mamme con i bambini pensi direttore che questo mercoledì quando ho visto il diluvio ho detto oddio devo fare il banco alimentare anche giovedì e venerdì perché con questo diluvio chi vuole che venga a prendere la borsa perché io li vedo vengono a piedi non neanche i soldi per l'auto sono riuscita a dar via le borse sono venuti tutti sono venuti tutti è stata talmente una soddisfazione e l'unica cosa che mi chiedevano è Mirella ma in agosto chiudete no tesoro ho detto non chiudiamo mai il banco alimentare non può chiudere se no che banco alimentare è cioè mica un supermercato che può andare in feri il banco alimentare è sempre aperto l'abbiamo aperto la vigilia di Natale lo apriremo a ferragosto ringrazio ringrazio ad esempio la ditta Spolaor di Santa Lucia di Piave che adesso darò un pochino anche a loro mi ha dato delle fesi di tacchino enormi perciò hanno anche la carne ma ringrazio il mercato ortofrutticolo che mi ha dato ma delle cose bellissime buonissime ma tutte le persone che sono arrivati con contributi una coppia 120 euro ha dato di contributo ha portato robe da mangiare pomodori pere sono arrivati e ci dicono guardate che ci siete noi allora sa cos'è la mia forza è la forza di Rete Veneta che noi non abbiamo solo i 30 volontari come ho detto del Banco Alimentare noi abbiamo il Triveneto abbiamo il Friuli come volontario abbiamo queste persone e dei politici me ne faccio un baffo un baffo perché io ho il popolo della mia ho il popolo del Triveneto che lo bacio perché mi dà la possibilità di aiutare Emilia di andare con l'assegno con i soldi di aiutare Pirollo di aiutare tutte le persone in difficoltà ringrazio questa questa me la faccio aprire direttore questa l'ho avuta oggi di una persona che è definita e il marito che ringrazio infinitamente il signor Giannotta Vito e il suo nipote Dudano Stefano mi hanno fatto la colletta al funetare questa è la busta e hanno scelto noi guardate questi soldi che sono arrivati mi hanno autorizzato a farlo e questi soldi sono i soldi che noi pagheremo le bollette l'acqua quei bambini neanche l'acqua non aveva quella famiglia Antonella l'acqua i bambini non possono i bambini stare senza acqua allora questi soldi di queste bravissime persone guardate questa è busta oggi mi hanno dato abbiamo scelto voi perché di voi abbiamo fiducia abbiamo fiducia di Rete Veneta abbiamo fiducia di te prendili e paga chi ha bisogno allora non ci sono cari politici ciao devo aggiungere rispetto a quello che ha detto giustamente Mirella alla quale mi inchino che giustamente lui ha fatto una battuta dicendo guardate che io non vado in giro nei banchi alimentari perché mi vergogno o alla Caritas e noi dobbiamo tener conto che al di là di quello che scrivono in maniera errata la gente non è che va contenta cioè la dignità di doversi andare a prendere la spesa regalata è per primo una sconfitta del soggetto che ha perso il lavoro che non lo trova che non ha i mezzi di sussistenza perché dopo è facile parlare a chi sta bene a chi ha le armi per difendersi ma chi non ce le ha giustamente si vergogna anche a scendere da quell'autobus per quanto sia comodo e tutto quello che vogliamo credo di aver interpretato il suo pensiero avendo sentito quello che le diceva questo inverno per scaldarmi allora c'era il comune che tagliava le leine sono andato a prendermene che non si può fare e mi sono tagliate con una circolare che mi ha prestato mio fratello mi sono tagliato un dito e questo dito qua purtroppo per scaldare me scaldare il mio figlio scaldare mia moglie basta guarda che è già arrivata la legna se vuoi perché ha chiamato tutti gli spettatori dicendo che se voglio posso andare a prendermi la legna perciò se vuoi legna senza tagliarti un dito abbiamo volontari andiamo a prenderci la legna io chiedo e arriva a proposito ho bisogno di una bicicletta da bambino è un bambino che è veramente provato è quel bambino che avete visto e quel bambino vorrebbe una bicicletta per la sua età per dieci anni perciò se qualcuno mi la può regalare Mirella non hai detto ancora della Despar cosa stai combinando che forte stasera allora siamo stati scelti per la prima volta da questo gruppo importante che è Last Minute Market che è una catena di supermercati che si appoggia a questa agenzia importante per dare le eccedenze in scadenza alle onlus alle associazioni che hanno che lavorano nel territorio Dulcis in fundo ieri abbiamo avuto l'onore di avere la responsabile da Bologna che ringrazio infinitamente è venuta a visitare anche il nostro banco alimentare abbiamo preso questi due accordi con questi due punti vendita di supermercati e Despar e io già da domani inizierò ad andare a prendere le derate in scadenza in scadenza perciò mercoledì riuscirò a dare per riuscire a fare la borsa perciò mercato ortofrutticole due punti vendita i miei amati cittadini del Trivenito ma chi se ne frega da resto i soldi che arrivano sempre che riesco a farlo a segno e noi andiamo avanti e vinceremo la guerra perché la guerra la vincerà la solidarietà non la politica la solidarietà ricordatevi che ce la faremo avanti tutti e ottimismo allora i sindaci hanno un obbligo morale quello di aiutare chi è in difficoltà se non lo fanno mandiamoli a casa tantissimi messaggi avete visto anche di disperazione famiglie che appunto sono di fronte ad uno sfratto esecutivo hanno perso il lavoro dicono che le banche gli portano via la casa Equitalia gli porta via i mezzi di trasporto ci sono autotrasportatori qui vengono portati via confiscati camion e i furgoni insomma davvero un disastro vediamo andiamo a vedere un po' com'è il mercato del lavoro purtroppo non ci sono novità positive per ora c'è chi dice ieri qualcuno ha scritto una volta vedevamo il tunnel non la luce ma adesso non vediamo neanche il tunnel vediamo a Bassano e Grappa cosa sta succedendo purtroppo devo riconfermare che i dati anche nel mese di giugno sono come quelli dei mesi precedenti si attestano per quanto riguarda la mobilità il numero dai 60 alle 100 persone iscritte alle liste di documento del centro per impiego per Bassano altro che 2014 anno della ripresa l'emorragia di posti di lavoro continua a colpire il Bassanese se i posti di lavoro persi nelle ultime settimane vi sembrano pochi provate a moltiplicare la cifra per tutti i mesi di quest'anno considerando che da un lato Bassano ha poco più di 42 mila abitanti e dall'altro che spesso a mancare l'unica fonte di reddito familiare facendo quindi un bilancio di metà 2014 si potrebbe dire che siano migliaia i posti di lavoro persi sì assolutamente sì devo dire che c'è stato un grande coraggio da parte anche delle imprese che insieme al sindacato e ai lavoratori hanno cercato di perché ovviamente sono importanti i lavoratori nell'impresa hanno cercato di attenuare questo fenomeno quindi cercando di usare i più ammortizzatori sociali possibili penso al contratto di solidarietà o altre cose ma assolutamente i numeri sono in assoluto aumento insomma a questo bisogna poi aggiungere un altro dato allarmante 8 mila lavoratori in provincia sono senza ammortizzatori sociali la copertura economica per la cassa integrazione in deroga è finita un problema che conduce direttamente a Roma servizio di Filippo Fois qualche sera fa avevamo avuto ospite proprio seduto seduta in poltrona Ferghi il barboncino di Gennaro Marotta molto legato appunto al mondo degli animali ha fatto una legge per consentire agli animali ai cani in particolare di poter andare nelle spiagge non liberamente disturbando i turisti ma insomma avere degli spazi come succede anche in altri in altri paesi stasera c'è Miele Billi ah Milli scusate ho capito male Milli Milli Miriam cosa rappresenta per voi Milli beh Billi tanto vogliono sfrattare anche lui anche lui anche lui vogliono sfrattare Billi a me ha salvato la vita nel vero senso della parola io circa dodici mesi fa ho fatto una cosa che non va fatta e e Billi è per me un aiuto un esempio perché è sempre felice e è la mia gioia e io io spero il mio il mio desiderio sarebbe quello di poter lavorare in un canile perché penso che quello che ti danno gli animali purtroppo le persone non sono in grado di darlo perché gli animali non chiedono non chiedono niente e danno tanto e per questo ringrazio sempre Billi ma in che senso ti ha salvato la vita perché perché io adesso sto facendo un corso per educatore cinofilo e quindi ho un impegno che ogni settimana vado due due giorni a lavorare con Billi in modo che come potete vedere Billi si sa comportare in ogni situazione cioè nessuno gli ha detto adesso stai buono stai in silenzio non gli ho dato nessun comando eppure vedete tutti come sta in studio è molto educato sì però scusi direttore però il cane di Marotta è un po' il cane politico aveva la poltrona e lui non se l'ha perché non ha cominciato il direttore no no non è così io gliel'ho proposto ho detto sei qua ma ha detto no io sto meglio per terra vicino alla mia padrone non mi rompe le scale con la poltrona però è vero che è molto educato questo cane per cui facciamo l'appello che questo corso ha aiutato molto Miriam che magari se qualcuno può anche dare una forma di lavoro telespettatori dateglielo veramente perché è proprio ben educato e poi se posso aggiungere anche dal mio punto di vista la cosa che l'incentivo che Billy ci ha dato nonostante la situazione per stare meglio è che quando siamo cinque anni fa circa siamo andati a prenderlo in un canile per per la verità prima che ci venisse dato presso un canile di Padova eravamo stati in un canile in un altro posto e c'era stato rifiutato perché perché ci avevano detto due persone nella vostra situazione di disabilità fanno fatica ad occuparsi di se stessi come potete voi garantirci che vi occuperete di un cane che è un impegno con con diligenza come si dovrebbe fare e invece siamo andati via da quel posto e abbiamo dimostrato che se c'è la volontà di fare le cose e se veniamo messi nelle cose e soprattutto se in certe cose veniamo messi nelle condizioni di poterlo fare possiamo dare la dimostrazione che possiamo avere anche noi una marcia in più se posso dire una cosa mi è capitato di leggere i messaggi che stanno arrivando personalmente mi dà un po' fastidio il fatto che molti telespettatori stanno dicendo ma gli extracomunitari tolgono ai nostri veneti io voglio dire da persona in difficoltà voglio dire che penso che comunque sia giusto fare anche per le persone che arrivano qui da situazioni difficili e io non vorrei mai che un'altra famiglia solo perché magari straniera per dare posto a me sia tolto a loro scusate se lo dico dovrei essere forse un po' più egoista però penso che la solidarietà sia sempre importante soprattutto tra tra di noi diciamo perché ho notato che molto spesso più le persone sono solidari nelle difficoltà piuttosto che chi può chi ha tanto fa fatica a dare chi ha poco è più disposto a condividere confermo confermo è la lezione allora sì tanti messaggi Miriam però poi non sono messaggi cattivi ma sottolineano il fatto che questo è un territorio ospitale non è per nulla razzista c'è tantissima solidarietà c'è molto altruismo però si dice non conviene spostare in questo paese già in crisi altre persone a cui non si ha la possibilità di dare del lavoro e quindi avere una massa di disgraziati che non vanno ad occupare posti magari degli italiani ma che devono essere sostenuti sì certamente questo secondo me andrebbe andrebbe come si può dire andrebbe valutato meglio quando le persone arrivano qui se non c'è più possibilità di dare il discorso è quello bisogna far entrare tutti quelli che si possono con le carte regola che si possono far lavorare insomma che trovino la possibilità se però non c'è lavoro per gli italiani non si capisce perché li vanno a prendere a migliaia e li portano qua facendone dei derelitti perché poi alla fine si ritrovano in questi centri di accoglienza dove stanno un giorno poi scappano e sono per le strade a chiederle le mosine insomma la politica dell'immigrazione non dovrebbe essere questa crediamo noi comunque vediamo volevo intervenire solo che tra i messaggi però è arrivato un messaggio molto serio che diceva sono da ammirare questi due ragazzi perché pur nella disabilità non chiedono sussidi ma chiedono di lavorare e guardate che quello che l'ha scritto quella signora che l'ha scritto ha dato un vero messaggio perché loro oggi hanno chiesto dignità per la loro condizione e di non farli sentire ultimi ma che loro per le capacità che hanno possono anche loro dare alla società offrendogli le opportunità che le leggi gli dovrebbero offrire ma che non vengono applicate e quindi ringrazio quella signora che l'ha scritto perché ha proprio centrato la loro condizione Allora la CGA di Mestre è diventata un punto di riferimento di tutti i grandi giornali perché in genere quando escono i dati dalla CGA tutti i giornali li ritengono seri e attendibili e fanno grandi paginate vediamo cosa dice credo Paolo Zabeo in questo servizio Per il 32esimo anno consecutivo la CGA di Mestre promuove l'iniziativa chi apre chi chiude mettendo a disposizione della cittadinanza una guida gratuita con le attività artigiane a cui potersi rivolgere durante l'estate hanno la possibilità di consultare questa guida trovando oltre mille artigiani e piccoli commercianti con la reperibilità e soprattutto il periodo di ferie in modo tale da scoraggiare quel fenomeno di saracinesca selvaggia o meglio di far sì che chi si trova in una situazione di emergenza soprattutto ad agosto quando è difficile magari trovare l'artigiano che solitamente si ricorre ha la possibilità appunto di consultare questa guida e quindi trovare un artigiano professionista disponibile con il cellulare e il numero di telefori per raggiungerlo a causa della crisi gli artigiani mestrini hanno ridotto mediamente le vacanze di una settimana al 30 giugno di quest'anno le imprese artigiane veneziane infatti sono diminuite del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2009 abbiamo visto che negli ultimi sei anni abbiamo oltre 300 aziende in meno complessivamente sono 5107 nel comune di Venezia con una forte anoria di aziende soprattutto nel settore dell'edilizia delle costruzioni e nel settore della produzione quindi legno tessile avvigliamento metalmeccanica sono le attività e i settori che hanno subito maggiormente gli effetti della crisi e nonostante qualcuno abbia parlato di ripresa economica dalla CGA la visione non è così rosea noi ancora non la vediamo soprattutto per l'artigianato l'artigianato vive quasi esclusivamente dei consumi delle famiglie se non ripartono i consumi delle famiglie chiaramente il fatturato delle aziende artigiane continua a scendere ed è quello che sta succedendo adesso noi abbiamo una situazione di crisi profondissima nonostante le statistiche ci dicano che la ripresa è in arrivo anche se è ancora abbastanza debole segnali positivi noi non riscontriamo intervista di Ilaria Ilaria Marchiori le famiglie oneste non hanno i soldi per sfarmare i fogli i figli credo i tassisti che dichiarano 17 mila euro all'anno invece incassano 160 mila alla nostra faccia si fanno 4 viaggi all'anno in tutto il mondo vabbè insomma bisognerebbe avere qualche elemento in più adesso non credo tutti i tassisti buonasera avrei una bici nuova per il bambino se volete contattare io chiedo arriva facciamo felice quel bimbo felice grazie grazie di cuore grazie benissimo allora Stefano Mazzariolo a proposito dei bambini suo figlio a 3 anni ricordiamo ha una malattia rara che cercate di ovviamente di curare si diciamo la malattia di nostro figlio oggi non ha ancora una cura però la ricerca si è accorta che queste malattie hanno un'incidenza che comunque non è particolarmente rara come tante altre per cui comunque si sono dedicate a alcuni studi alcuni ricercatori pionieri si sono messi a sperimentare e a muovere qualche ricerca importante e noi come associazione di genitori oltre a fare tutta una parte informativa e una parte di divulgazione e di appoggio alle famiglie nel conoscere la malattia e nel conoscere chiaramente il supporto psicologico che possiamo dare finanziamo direttamente alcune ricerche una in particolare mi permetto se posso questa sera di lanciare un piccolo appello c'è un farmaco sperimentale lo stiamo sostenendo noi famiglie con aiuto anche di altre associazioni di famiglie in giro per il mondo e questo farmaco potrebbe dico potrebbe perché chiaramente è ancora in fase di sperimentazione rimettere in moto il meccanismo di autoriparazione dei muscoli questo farmaco ha già superato una prima fase finanziata praticamente interamente da noi per quanto riguarda un profilo di sicurezza ora sarebbe importante riuscire a fare una vera sperimentazione di efficacia di questo farmaco stiamo raccogliendo dei fondi per farlo prima riusciremo a raggiungere la soglia necessaria si parla di circa un milione di euro e prima riusciremo a fare partire questa sperimentazione sui nostri bambini noi ci crediamo ci vogliamo credere e per ottobre a Treviso stiamo per organizzare uno spettacolo teatrale molto importante abbiamo una compagnia amatoriale la compagnia dei genitori sconosciuti si chiama che ha messo in piedi uno spettacolo musicale teatrale che si chiama Pirati e lo faremo al teatro delle Canossiane in Viale Europa sarà il 4 di ottobre tutto il ricavato andrà esclusivamente al sostegno della ricerca sulla distrofia di Duchenne e in particolare alla sperimentazione di questo nuovo farmaco sperimentale che si chiama Isofen noi ci contiamo tanto è vero che i tre ricercatori che hanno messo in piedi questo progetto di questo farmaco hanno fatto la donazione del brevetto a noi genitori e quindi tutto quello che proverrà poi dalla commercializzazione nel caso in cui il farmaco arrivi alla commercializzazione che ovviamente essendo di proprietà di noi genitori sarà commercializzato ad un prezzo da genitori mettiamola così ma tutti i proventi verranno reinvestiti in nuova ricerca scientifica è il primo caso in Italia di un'associazione di pazienti che diventi proprietaria di un brevetto di un farmaco sperimentale mi è venuto in mente perché me l'ha detto la regia che il professore di cui vi parlavo prima si chiama Mauro Baschirotto è un uomo con un gran barbone lui e la moglie da anni hanno proprio insediato questo grosso centro per lo studio di malattie rare uno dei più apprezzati quindi forse vi conviene anche mandarlo a conoscere il nome di Rete Veneta vedrete che vi accoglie a braccio aperto allora gli immigrati tutti a Roma non ho capito cosa significa tutti a Roma ad assediare i palazzi del potere può essere un'idea invece di smistarli in tutta Italia li mandiamo tutti lì e vediamo se si rendono conto di quale sia la situazione come risolvere i problemi dei Veneti schiacciati dalla crisi semplice con la risoluzione di legge 16 2014 approvata in consiglio regionale dunque che sarebbe immagino non so se si riferisce all'indipendenza ma forse no perché quella è la 342 o forse l'autonomia non so non lo so sinceramente allora Mirella che cosa che cosa bolla in pentola perché tu non stai mai ferma gli orti come vanno gli orti questo tempaccio qua si è rovinato e raccolto come si rovinano come gli agricoltori che guardano e dicono oddio santo mi si rovinano perché noi abbiamo il nostro orto che è di fronte agli orti sociali che sono coltivati dalle persone e sono incazzati neri perché nel nostro orto sono nate le melanzane e loro da anni cercano di seminare le melanzane e noi abbiamo già le melanzane che martedì raccoglieremo perciò è tutto un sistema è talmente bella starò e poi abbiamo Renzo Renzo che è quello che ci ha regalato il signore che ci ha regalato il Tosa Erba e lo saluto perché oggi non ne stava tanto bene che lavora come un pazzo con i ceudo con questi ragazzi che vengono nel nostro orto gli insegna a far tutto loro sono felici per questo io stasera che ho sentito il presidente Muraro che ancora ripeto ringrazio perché qua è solo questione di bursi qua non c'è politica qua bisogna capire veramente vedete come passano le giornate queste persone queste persone hanno bisogno di aria hanno bisogno di ambienti hanno bisogno di respirare perciò vedere che c'è questa secondo me facciamo bella figura a tutti aiutare queste persone perché per anni noi disabili li abbiamo nascosti altra bicicletta altra bicicletta grandi io bambini non c'è problema abbiamo una famiglia talmente grande di Rete Veneta che abbiamo bisogno sempre di tutto però ripeto direttore è una cosa che io voglio far capire che questi ragazzi sono meravigliosi vanno integrati normalmente con le persone io sto iniziando a lavorare con l'Ulsa di Treviso che ringrazio ancora perché queste persone sanno parlare e sanno esprimersi benissimo vanno fatti vedere vanno intervistati basta basta con queste chiusure perché una persona è disabile non va fatta vedere per anni hanno subito queste cose per anni le famiglie avevano paura di non far vedere questi ragazzi sbaglio Mario e perciò il lavoro che stiamo facendo in provincia è un lavoro enorme e ripeto ringrazio perché io ho bisogno di questi spazi forse più di tanti altri perché noi facciamo vedere che facciamo veramente quando voi vedete che il disabito tocca la terra con le mani per lui è una cosa importantissima tanti non sapevano neanche cos'era un orto cos'era una pianta cos'era un animale perché questa è una verità per la prima volta sono a contatto con la natura con la natura che li ha creati con la natura con questi genitori che li hanno tenuti perché sono ragazzi splendidi allora per cortesia tutti quanti aiutate la Mirelucia a portare avanti questo importante progetto qui invito anche la consigliera Antonella Tocchetto perché fino adesso Antonella io il sindaco l'assessore non ho visto a parte che non è che me ne importi più di tanto però voglio che lo sappiano anche i genitori perché quando ci sono cose importanti così sono molto molto latitanti ma noi ce ne freghiamo e andiamo avanti queste cose mi fanno impazzire quale paese con i soldi dei suoi cittadini va a spenderli per gli altri invece che per i suoi italiani svegliatevi che ora anzi è tardi prima la legge 16 2014 qualcuno ce l'ha subito ricordato riguarda approvata il consiglio regionale riguarda il referendum per l'indipendenza ce ne sono due in realtà l'autonomia e l'indipendenza stanno decidendo una data mancano dei soldi ma insomma prima o poi vediamo se si riuscirà a far esprimere un'opinione ai veneti sull'indipendenza sì o l'indipendenza o l'indipendenza no a Padova scontro come avrete saputo l'abbiamo detto ne abbiamo parlato anche ieri sull'ospedale se farne uno nuovo se ristrutturare quello vecchio insomma grandi polemiche grandi attese da parte dei cittadini vediamo la vicenda del tram di Padova vediamo cosa succede vogliamo chiedere a Bitonci di combinare qualcosa le opere pubbliche devono andare avanti quelle che servono e ovviamente gestite con oculatezza e nell'interesse pubblico dopo l'ospedale la paura è che anche il progetto del tram possa tramontare per questo gli esponenti del PD Padovano proporranno una serie di emendamenti per cercare di migliorare il bilancio che verrà presentato lunedì dall'aggiunta Bitonci in consiglio comunale la fiscalità con la riduzione per tutti dell'IRPEF è uno dei temi che più interessano i democratici che se da un lato si vengono concordi con l'amministrazione sulla necessità di riduzione della pressione fiscale pensano però che così come è stata proposta non vada bene proporremo al contrario di aumentare la soglia di esenzione del pagamento dell'addizione all'IRPEF in modo da esentare la metà dei padovani anche i tagli preoccupano i consiglieri di minoranza soprattutto quelli al sociale e alle scuole una riduzione superiore a quella che aveva messo in alto la precedente giunta soprattutto a cultura e polizia locale che secondo gli esponenti di via Beato Pellegrino tocca quote rispettivamente di meno 5,8% e meno 4,54% come se non bastasse eppure è mancato il dialogo nelle commissioni dice Claudio Pirone non siamo riusciti a confrontarci con l'amministrazione perché purtroppo il bilancio verrà approvato lunedì prossimo senza avere fatto un incontro di commissione le commissioni della scuola le commissioni del sociale di cui io sono membro nella commissione scuola sono pure vicepresidente non mi è mai stata data comunicazione delle scelte che il comune farà servizio di Francesco Ratai ieri c'era qui Vittorio Zanini che insomma sulle opere ha treviso ne ha dette di tutti i colori però certo in un bilancio comunale ci sono interventi che a volte come quello di Venezia sono ormai 200 milioni spesi per il tram chiamato desiderio nel senso che c'è chi lo desidera ma ancora non si vede insomma se ne vede solo un pezzettino e tutto il resto allora io non conosco la situazione di Padova e non entro nel merito di quello che tra l'altro anche i colleghi del PD hanno detto c'è però da dire una cosa che vado molto a Venezia la frequento per questioni di lavoro e a me vedere intanto il ponte della libertà ridotto nella sua strada per il passaggio di questo tram che mi pare debba ancora passare che non è ancora passato e che effettivamente rende anche la strada molto pericolosa soprattutto se ci sono tante macchine se c'è qualcuno che sorpassa mi pare che a Mestre non abbia funzionato così tanto allora io ho visto delle buone corsie di trama ma le ho viste a Berlino cioè nelle grandi capitali europee dove anche l'intervento pubblico sui mezzi di trasporto è completamente diverso io non conosco ripeto la situazione di Padova ma come quella di Mestre mi sembra che forse il tram sia uno dei soldi diciamo così un po' spesi e buttati via per non dire dell'ovovia perché anche l'ovovia del ponte di Calatrava allora la sì ci sarebbe da aprire un argomento pare che sia costato solo di manutenzione 2 milioni di euro che sia funzionato due volte di cui una una famiglia una mamma con un bambino è stata chiusa un'ora e mezza allora le opere pubbliche sono veramente sempre contrastate noi da poco abbiamo votato l'ampliamento dell'ospedale anche in consiglio comunale è stata una battaglia piuttosto complessa però a volte anche queste opere pubbliche pensiamoci bene perché al di là delle tangenti alla mose a volte forse sono non solo poco funzionali e solamente estetiche ma sicuramente non magari non servono perché i signori come Miriam e Mario ricordiamoci che nel 2014 non possono andare a Venezia perché Venezia è una città che non permette ai disabili di andarci se nel 2014 non abbiamo ancora la possibilità di portare delle persone disabili a fare un giro su Venezia io penso che sulle barriere architettoniche dovremmo intervenire piuttosto che sui tram o sulle ovovie che non servono a niente sono una fonte di soldi buttati al vento senza aiutare invece le famose barriere architettoniche di cui anche Treviso ne è completamente assente e sul quale il comune di Treviso almeno su quella cosa lì sta cercando di presentare un progetto serio carissima basso e giù che apre e mette dentro però se volete martedì e mercoledì 10-18 continuato allora io non accetto di farmi il mazzo ogni giorno per poi vedere che con le mie tasse invece di aiutare l'Italia si va a aiutare il primo che arriva non lo accetto leggiamo gli sms anche per i nostri amici non vedenti siamo quasi arrivati alla fine Miriam allora cosa succederà nei prossimi giorni cosa farete? noi continueremo ad andare avanti come abbiamo fatto finora cercando di essere il più positivi possibili anche se non è non è poi così semplice però siamo arrivati fino a qui e andiamo avanti bravi e speriamo che ci sia anche un lavoro per loro come ovviamente anche per il signore ecco Mirella per Pirolo secondo te si riesce a fare qualcosa cosa pensi certo che faremo qualcosa finché arrivano continuamente questi aiuti oddio non risolveremo i problemi di Pirolo però lo lasceremo respirare anche lui perché quanto parli di affitto scusa su quella casa? pagamo 500 euro qui topi scarafaggi topi scarafaggi poi finestre bercone li chiudi devi chiudere le piave vedremo vedere questa casa cadono i vetri è già caduto vetri e non è giusto più perché purtroppo Videnza si è già tenuta al 10 luglio e lui si è presentato e quando c'è un portico sotto che io lo chiamo Marco ci piove dentro ci sono i travi in marci e ho sempre paura che cade tutto e la padona mi ha risposto io non ti ho affittato quello ti ho affittato ma cosa stai dicendo? mi hai affittato tutta la casa ti ho chiamato 10 volte che mi piove dentro che devo mettere i secchi ti metteremo sull'ogovia te lo prenderemo in affitto l'ogovia quella di Venezia quella di Venezia quella di Venezia invece della monorotaio la chiamo schifo rotaia perché è proprio un insulto e poi vediamo le situazioni perché le grandi opere mi ricordo a Venezia quando fu inaugurata l'ogovia polemicamente Matteo secchi i ragazzi di Venezia.com andarono vestiti da sci tutti col berrettino di lana gli sci in spalla le racchette insomma e le sharp e fecero una così un po' di cagnara davanti a questa ovvia davvero inutile e troppo costosa per quanto per quanto si è visto allora 23 in punto adesso partiamo con i nostri telegiornali vi invito a seguire perché sono pieni di informazioni ovviamente locali del territorio le città i nostri paesi la gente il Veneto tutti coloro che hanno problemi devono denunciare di servizi attraverso io chiamo Rete Veneto insomma tanta tanta carne al fuoco nei nostri notiziari Mirella c'è qualcos'altro? sì volevo appunto ringraziare ancora il signor Vitto per questa perdita della signora Dudana Maria perché questa signora prima di morire aveva piacere che questa inattesa che lo sapeva di questo funerale fosse data in offerta quello che raccoglieva perciò anche se non c'è più io ringrazio veramente Anna Maria e suo marito e suo nipote grazie grazie davvero 23.01 buonanotte ci vediamo domani sera con Roger De Menex segretario regionale della PD c'è Luciano Sturaro il parlamentare della della Lega Caon altri ospiti una virologa molto importante che ci racconterà ancora cosa si può fare per prevenire queste infezioni grazie a tutti buonanotte arrivederci buonanotte ciao e grazie